Bentornati! Allora, con Lion non parlo perché ha vinto per quello che ha fatto più ridere secondo il sondaggio, quindi Lion oggi non c'è, Anna e Ferre, cosa volete fare? Grazie a tutti, grazie di questo apprezzamento, grazie, grazie No, grazie un corno, e poi non sei carino con quella roba in testa, quindi toglitela subito che non piace a nessuno È il mio trofeo da vittorioso, mi hanno regalato una maschera da gattino Va bene, va bene, allora, quindi stavo dicendo che questo oggi solo Ferre ed Anna parteciperanno, e ovviamente io Siamo in tre, così Lion non può vincere e siamo tutti a posto Ma non puoi fare queste cose Dimmi, dimmi Allora, vuoi un graffio in faccia per caso? No, no, stai calmo, non mi piacciono i gatti aggressivi, eh Allora fammi partecipare, grazie Ok, però, allora, Ferre, ho preparato dei biscotti per te Gli vuoi? Sì, certo Vieni, 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 tieni questo biscotto Ok Sono molto buoni, li ha preparati la mia nonnina, sono davvero buonissimi Dove mi stai mandando, Stef? Ma Ferre, ti sto soltanto dando dei biscotti Dove mi stai mandando? Non ti sto mandando da nessuna parte Non ti sto mandando da nessuna parte No, no, no Comunque se volevi iniziare per prima bastava Buon'esibizione No, no, ormai hai detto che volevi iniziare Non li voglio i biscotti, vabbè, vado io Ok, quindi per tenere Ma lo vediamo comunque, eh Hai visto? Eh? L'ho fregata, l'ho fregata Eh, io non voglio mai partire, mi mette ansia a partire Eh, neanche io, perché il primo c'è sempre tutto quel ghiaccio addosso È difficilissimo Eh, esatto E quindi state dicendo che fare un'esibizione è schifata Brava, brava, sì, probabil Mi stai sacrificando, tanto abbiamo capito che non puoi vincere a questo gioco Quindi almeno ti sacrifichi Non è vero, non è vero Sono pronta comunque, vado? Oh, ma già, così velocissima è stata Sì Ok Sono pronta e molto arrabbiata Va bene Chi è lei, scusi? Una pecora tosata Non si vede? E questo lo vedo la vostra E so perché sono tosata Perché tutte le persone si permettono di prendermi la pelliccia per farsi i loro comodi Anche voi, come pensate che siano fatte le cose che avete addosso? Come pensate? Ma guardi Da dove arrivano? Dalla mia lana? Questo Questa roba qua Non dirglielo Quindi addirittura Anche i tappeti, vedi? Addirittura L'ha sprecata per fare cose futili Mentre io mi congelo dal freddo qui in pieno inverno Sì Non so, abbiamo una copertina magari Aspetta Aspetta Almeno qualcuno che un po' si sente in colpa c'è Dai, diamole un tappeto Mi ha avanzato questo, tieni Ma così infierita, è peggio Ma no, è caduta Sono morta Come è morta? Di freddo è morta Sì, sì Ma così Aspetta, ho un'idea Un'idea, un'idea Sì, io Ecco Vai lì Non solo mi rubate la lana Ma vi volete pure dare fuoco E mi date i tappeti Ma vi sembra? Ma sta facendo pipì adesso Sto piangendo Mi state anche insultando Mentre piango Non avete cuore Non avete cuore? Ma io ho una soluzione Perché le vecole può ricrescere la lana Guarda Davvero? Mangi l'erba Sì, devi solo mangiare l'erba Ok, la mangio E quindi tra un po' mi dovrebbe ricrescere? Sì, tra pochi istanti Ma siete sicuri? Eh, abbastanza, abbastanza È una scenza Vediamo Vediamo Non mi vedi Gli affacci denti Allora facciamo finta che ce l'ha così Eh, mi sa che è l'erbetta Hai visto? Che bellissimo Che pelliccione incredibile Ma io vorrei Posso toccarla Ma è morbidissima Molto bene Ma vorrei anche io Tutto quel calduccio però Ti assicuro che io la lana ce l'ho E non sono una pecora pazzo Ok? Ma lo vediamo Sì, sì, sì Infatti non abbiamo dubbi Ma secondo me andrebbe anche tosata Perché ne è talmente tanta No, no, no Meglio non farla arrabbiare Arrivederci Arrivederci Non mi dovete dare un premio Ah, giusto, ha ragione Dovevi pensarci un attimo Perché io ero ancora Sì, allora Infatti voglio spiegare anche Abbiamo un voto Da uno a tre pozioni Quindi possiamo scegliere Se dare a fare Una pozione di esperienza Due pozioni O tre pozioni Lion, tu cosa scegli? Eh, ci sto pensando Io sono molto indeciso Allora, tre Tre Vorrei Allora, io gliele vorrei anche dare Però ho pensato Se diamo da subito tre Eh, eh Poi se c'è uno che fa meglio Come fai? Bravo Io te ne do zero Facciamo decidere Per me è tre Grazie Una, due Tre Ok, Fede si è preso a tre Anda Poi Lion Non lo so Io voglio andare per ultimo Ok, allora Dai tu Il mio voto è Una Due Basta Non c'è la terza Lui ne ha date No, non più Però dai Due pozioni Sono tante Due pozioni È un buon voto Infatti Sono indeciso Tra due e tre Vado di Una Due Se ci potessi dare Se ci potessi dare la mezza Te la darei Ti do un'erba Me ne vado Me ne vado Non mi voglio più vedere Oddio Tocca a me adesso Sì Vai 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 Ma io adesso ho la pressione addosso Dele essere quello che è stato favorito Una volta scorsa E vabbè Ma prima Non volevi essere prima Adesso non vuole proprio esibire Oh se non ti vuoi esibire Non ti esibire Ti prendi uno di foto No, 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 mi voglio Mi voglio Mi voglio Cocodè Mi sa che è fissato con i polli No Sì, sì, sì È una fissa questa Possessionato dai polli È grave Cocodè Abbiate paura Delle mie poderose ali Ma non fai paura Sei tenero Come non faccio paura Come ti permetti Sei molto tenero Grazie Hai visto E allora c'è una doppia Volevo dire Sì Sono qui Per dimostrarvi Che il pollo È il più grande animale Di tutti i tempi Perché ho visto che prima Si è esibita Una pecora Ma a me Non piacciono le pecore Ah no? No, no Perché loro Danno la lana E tutti i player Dicono Oh che belle le pecore Oh che belle le pecore È vero È vero E nessuno dice mai Oh che belli i polli Beh, fatti un po' schifo È vero No, no, sono carini Scusi Eh scusi Le rompo No, no, no Non c'è più Non farlo più arrabbiare Non farlo più arrabbiare Scusate Ho preso un attimo la pazienza Eh sì Deve stare un po' più calmo Succede Succede Ma posso farle una domanda? Sì Ma non le fa male Sbattere le ali In maniera così rapida No, no, no Mi piace Mi piace Però Stavo dimostrando Allora le pecore No, cosa fanno? Solo la lana Sì Invece noi polli Guardi quante cose possiamo fare Ok, vai Facci vedere Un attimo che faccio l'uovo Sì Si deve concentrare Eh, si deve concentrare Ecco qua Guardi Guardi che varietà Eh Ma è bravissimo Ma picchiano Picchiano Ma stanno picchiando un giudice Fanno male Sono un po' Sono un po' arrabbiosi A volte Mi hanno fatto venire la nonna E vedo tutto storto Ci penso io Ma guardi il signor pollo Mi ha convinto abbastanza Però io ho notato pure che lei sa volare Di solito i polli non sanno volare Invece ho notato che lei a volare Si è sentito male Mi sa che Pollo È affaticato dal volo Sto bene Sto bene Sta bene Ok Ok Dicevo È molto bravo a volare Mi può far vedere come vola? Così Ma no Ah no scusa Aspetta ma lei intende nell'alto Eh beh certo Sì Eh ok Eh beh esatto Vedi questa cosa è molto interessante Puoi andare in avanti Mentre voli Avanti così Esatto Dritto 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 Ma tanto Sì sì tantissimo Voglio proprio vedere Voglio proprio vedere la tua velocità Esatto Vai Ok Guarda Stai vedendo Ma sei fenomenale Eh grazie Continua Continua Raga chi tocca adesso? Raga mi sono perso Mi potete dire Chi si deve esibire adesso? Votazioni Allora Qualcuno ha le idee chiare? Una Ok Due Grazie Sei proprio una persona Vorribile Voglio che vada Come seconda Mi sono confrontato Al voto che ho fatto a Fere Allora Io te ne do due Ma voglio anche motivare Te ne avrei date tre Ma i tuoi polletti Mi hanno fatto un male assurdo E mi hanno inseguito Per tutto il palco No Di la verità Non è stato Tu me ne dai due Perché io te ne ho dato due E sei astiosa No Guarda Ringrazia che non te ne ho dato uno Per tutti i polletti Che mi hanno fatto male Quindi una Ok Ho sbagliato Ma che fa? Hai un pollo adorabile Ok Però troppo aggressivo Dai Ma che motivazioni sono? Dobbiamo far ridere Non essere cordiali Ho dovuto Aggiustare Tutto il banco Ha ragione L'aggiustavo da solo E due No no Perché non è giusto Ci sta Ci sta Secondo me È un voto equo Bonjour Bonjour Como ça va? È un villagerico Non sa parlare il francese Bien Eh sì Infatti sta facendo un tentativo Un po' Quindi Dovete sapere che io sono Un villagero molto colto E sapete che cosa faccio? Non si direbbe Bellissimi Quindi quest'oggi sono qui Per mostrare la mia arte So che molti di voi Non la apprezzeranno Perché non capite nulla di arte E si vede dalle vostre facce Già che è offensivo Quei quadri non mi piacerà Eh vedete Vedete L'arte va oltre Eh no ma l'arte L'arte dovrebbe andare oltre Invece voi siete persone Che non sanno andare oltre Comunque Proverò lo stesso A mostrarvi la mia arte Quindi Ecco qui Userò il sipario Ne approfitterò Per farvi vedere Questo qui È un quadro Che rappresenta Tante cose Rappresenta I momenti difficili Della mia vita Quelle tre teste Sono i miei fratelli Che non esistono più Però non potete fare domande Ok non ce li ho messi io lì Mi scusi Ho visto bene No non sono stato Non sono stato Non era lei Era qualcuno da Dall'oceano I pesci faranno le frecce Maledette trote Eh sì Non sono stato Allora a più rispetto Valgono un sacco di soldi I miei quadri Ma ci mancherebbe altro Passiamo al quadro numero due Non farlo innervosire Eh vi conviene Non sono stato io Allora Il quadro numero due Rappresenta l'eternalot Non so stato io Non so stato io Piovono frecce in quest'ina Allora Probabilmente i suoi quadri Sono fatti male Quindi si smontano Allora Eh può essere Sì Può essere Facciamo un esperimento Ok Lei va un attimo sottoterra Io metto un quadro Se non scompare Vuol dire che era colpa sua Giusto 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 Questo quadro invece Rappresenta la vita dei creeper Come potete vedere Vedete che il quadro non scompare? Avete visto? In realtà ci sto provando Lo so che ci sta provando Non sono stato io Vabbè sono stato io Ecco Ecco Posso pagare per i danni Dato che non vi sono piaciuti tutti questi Ne ho uno Che vi colpirà assolutamente È impossibile che non rimanete colpiti Da una roba del genere È un livello che non avete mai visto Un quadro come questo Voi non l'avete mai visto Perché è in 3D E si muove Ma è lui dove è finito allora? Scusa Se questo non sei tu È questa la magia Io sono talmente bravo nell'arte Che riesco a trasformarmi Ah diventa il quadro Sì 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 Posso correre Guardate come mi muovo Guardate come mi muovo E mi posso anche appendere Vedete Io faccio così E sono un quadro a peso Eh? E non si stacca neanche E non si stacca neanche Vedi? Wow Questo è un bel quadro Mi ha convinto Vi ho convinto? Sì E come mi volete pagare? È in pozioni Ok 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 Va bene Mi piacciono le pozioni Sì sentiamo un po' Chi inizia? Tu Io no Fere No no Io non ho ancora deciso Cioè non mi è piaciuta troppo 3, 2 litiganti In terzo gode Quindi Anna Comincio io Ok Allora dunque Apprezzo molto l'arte Mi interessa molto questo quadro sgambettante Ok Tuttavia alcuni potevano essere migliori Quindi direi 2 Ok Lo posso accettare? Mi va bene Mi va bene Il signor Lion Tu a me 2 me ne hai dato E questo mi riempie di odio ancora Ma dai Io Te ne do 3 Però non le meriteresti Perché sei stato cattivo con me Però sono giusto Grazie Lei signorina? Io sono molto indecisa Perché Allora I quadri erano Erano quasi tutti brutti Quindi Oltretutto Cadevano in terra Sei buona Sei buona Ma dai Cattiva Non piangere Tutta posta Era brutta Ciao Te ne do una Sei seria? Sì Va bene Ma esibisciti di nuovo Ne riparliamo nel video di Lion Carabia Io non dimentico Io non dimentico Salve Salve Cos'è? Sono un pesciolino Un po' grasso Ok Per favore Non fatemelo notare Ok? Che sei grasso? No Perché Ma sei piccolissimo Cosa sei grasso? Perché io Soffro di ansia Tanta ansia Tanta ansia Ok Sì E se qualcuno Che mi dice Che sono grasso Io Io mi agito E poi No 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 Aiuto Che c'è? Che c'è? È diventato più grosso No Non lo digli Non lo digli È più magro È più magro Sei benissimo È in ottima forma Piccolo Hai benissimo Sì sì Piccolo Sì sì Piccolissimo Piccolissimo Carinissimo Piccolo 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 Calmo 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 Tranquillo Ok 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 Oh poco fa era diventato di un grosso No 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 era grasso proprio Piccolo 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 Perché Scherzavo Era diventato più piccolo Mamma mia Cos'è successo? Non capisci nulla Vedi è che è piccolo 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 Io confondo le parole Capito? Piccolo Piccolo Sì sì Lui si confonde Non è bravo Piccolo volevo dire Piccolo Esatto esatto Quindi anche lei ha problemi Io vi vorrei chiedere una cosa Eh sì 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 Ma secondo voi perché ha un'ombra così larga rispetto Perché in realtà è grasso Perché in realtà è grasso capito Ah ok ok Non capivo Non è vero non li ascoltare Non capivo Si piccolo Non è vero non li ascoltare Tutto è cattivo Tutto è cattivo E' colpa su E' lui che ti scelta Perché si mangia tutti Due sicuro A te Stef ne ho date tre Sono sempre indeciso Una Due 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 Sicuro? Sì Ok Fede Ok Vado io Una Due E tre Perché se non puoi si offendere di nuovo E devi diventare gigante Ma non iniziate Eh lo so Stef Dai lo so Anche noi l'abbiamo fatto Allora Tu no a me Io sì a te maledetto Allora Sono molto indeciso Devo essere sincero Però Penso di sapere come andrò a votare No 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 Credi che glielo devi dare tre per quello Uno Due Due E tre A dire solo Sì Cioè vince Anna Mi è piaciuto tantissimo Questi cambi erano molto difficili da fare Quindi lei ne ha vinte otto Sì E quindi vince Tu sei Io sei E fare sette Perché se ne esce Lasciateci un like E' stata la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare Gli iscrivervi Per non perderevi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao